ah, c'è un'ambulanza muo Dai, vada messo al brinная ti Sendy deep shit Vuol dire merda profonda P話 c'è che vogliono, IA mi p*** pear Non mi ricordo qual'è il freno a mano Nohto... Vai, vai Amo, quanto veloci? Lo arrivato a un Lizard in faccia scappa lì e zord ah io c'ho il classo anche è difficile un po ah ma sei scema a frenare così questa è una fuga lancio la moto per la nostra fuga ma c'è un infiammazione qui non so sto io per le infiammazioni consigliano di pulirsi con le salviettine imbevute siamo letto di nuovo permesso permesso guarda eh c'è una salita vola qualcuno dove cazzo è andato ho sbagliato casa sono per te sono per terra ci bucano ci bucano orca troia ma c'è tutto il sangue nella faccia ma dove sei andato io scappo vado lì nel posto che mi hai indicato scappa Mark scappa ma cos'era cos'era questo sono ma io mi sa che ho qualche ho qualche ruota stretta grazie Aliezza avevo proprio bisogno porca puttana troia ma sei cretino Esprit ma non so sto io ah era roti ma non mi funziona più la macchina amici mi si è spenta il clacson funziona però superman punch incredibile no è incredibile aia aia mi butto mi butto anch'io ma che tuffo fatto mi monto nel gruppone a questi orca troia mi sono montato nel finestrino l'ho preso io scappo via aia aia sei smeduto via spara parto io adesso provi in spara aaaaa che cazzo arrivo arrivo è finita questa fuga amici porca vaca l'ho ribaltata andiamo indietro non vuoi non ci perché sei tutto serio che guidi cosa merda è successo lassù ah è un po' da spottare l'elicotta perché siamo proprio come i duo dei film quello nero e quello bianco che salva il nero ah un poliziotto ma dai ma dai scivolo è ancora vivo l'ho preso con la portiera ma come fosse dai big dickinson ah scivolo ancora madonna si scivolo sono sotto sono morto devi stare tranquillo devi stare ci sono una gomma bucata per caso io faccio così poi eh si si se c'è una gomma bucata ma fa caga fa cagare il dump è una merda ma piccante le gomme dov'è essere anti proiettili di suo ma dai ma faccio il semaforo ma dai porca miseria attenti ai semafori ho brutta esperienza ma guarda ma c'è un deficiente che è successo roti ma dai di testa ah sei sotto ma io penso vabbè ti passo ti torno a prendere oh aspetta vado a prendere un elicottero va ma dai con l'elicottero con l'elicottero è più facile assicurare non sei ancora vivo orcatron c'è una macchina sotto tu oh però ho puoi di cosa dirvi ahia ah adesso salgo ah ah sono sotto non muoio vado a fare una partita di tennis dai vieni con me vieni qua ah scusa arrivo manca manca adesso parliamo di questa cosa parliamone aspetta parliamone ma sei stro aia parliamo aia salite salami non salite salgo sono incastrato nella portiera arrivo sono morto dentro dai iliezar sto partendo ma non ci stiamo tanto tutti ma si è da 18 sono morto io ecco sta riscendendo ma dai è esploso però prima bisogna fare così espri guarda come bisogna fare tiè e poi scappa scappa nell'aereo scappa nell'aereo parca 3 sei cuglione andiamo al kogan andiamo guardai perchè mi insulti scusa ma ti piace è da 4 questo monta non è vero aspettatemi ah si è da 4 sto montato è da 3 sono anna montana hai 4 e 4 aspettatemi sto arrivando eh non posso mi sparano no sono lì sono lì a te a sinistra vieni nella pista vieni eh sto arrivando eh non posso ti sbrighi eh io si è quello dai che dobbiamo farla cioppi bagni challenge mi hai spawnato davanti guarda a 26.583 like facciamola 5 bagni challenge esatto dobbiamo ficcarci in bocca delle caramelle mu e dobbiamo dire falli tanti esatto i duri tu ma perchè Marco c'ha dei cupi con il microfono io no perchè io sono Favij che ne sacci ho io neanche tu ce li hai ah ma no se lo dite non le ha eh si guarda bella piauti ragazzi sono Favij ah senti un cazzo eh si tagliamo in cima la montagna nooo ma kamikaze ah ah c'è no orca piauta la droga mi sono buttato malissimo orca tre non siamo riusciti no però la cioppi bagni la facciamo allo stesso se arriviamo a 47.238,6 per 2 moltiplicati per 4,2 col resto di 1 ahia c'è oroti oroti vaffanculo moro cosa faccio? ti lancio una ganata io invece salto ti aspetto il mio bene oh dai oh ma dai ah che cazzo vedi se c'ero anch'io col peso specifico mi stai arrivando addosso? ma do fortuna che sono un uomo musculo principale oh diiii ah sono atterrato sopra un carro armato porca puttana ah io volo molto ah ma ho sparato con un carro armato l'hai sentito ma io l'ho guardato dove sei passato a moro per entrare non te lo dico ah 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 moro sto arrivando a salvarti ah 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 è arrivato a salvarti moro moro si è inquadrato sono dentrissimo io anch'io ah ma dove si ho volato sono volante amici corriamo via corriamo che questi ci espare no prendi un carro armato un carro armato ma che carro armaldo vai moro ti è caduto moro eh si ma è da uno cretino cosa prendiamolo sei rimasto male no niente da uno parti parti ma sei strolo lololololo sono partier via adesso vado a farla Ah! Ah! Madonna, li ho schivati, li ho schivati! Ti schivo! Ma dai! Mi hanno colpito! Sono stato colpito! Mai dai, Ix! Mai dai, Eauix! Madonna! Pelé! Ah! Precipito! Sali! Sali! Guarda te, Renas! Arcatroe, sono morto lo stesso! Tutti, io uccido sti poliziotti del ca... Morite!